Ma io penso che la vita vada avanti a colpi d'amore e questo lo dico con forza perché è una vita che non è amata è una vita che si spegne e allora o mettiamo in gioco l'amore ma in maniera potente l'amore non è solo solidarietà, aiuti, mense, caritas eccetera cose precevolissime l'amore è innanzitutto una relazione duale io e te, è una relazione singolare nel plurale l'amore si sfalda, si disfa diventa movimento, diventa discoteca, diventa assemblamento non c'è più amore lì dentro l'amore o è singolare o è duale la condizione amorosa è la condizione che sostiene la vita io ho perso la vita da quando per esempio mia moglie è morta e ho cognato per me una frase carina in cui dico ogni tanto ho l'impressione di essere solo altre volte sono sicuro ma questa sicurezza ti spegne